Raga, Kadi mi ha sfidato, ma ad una cosa che io la so fare, vabbiamo Sto per scommettere il mio iPhone 13 Pro Max, 13 mila accettoni Stamble e tutto il mio account di Stamble Guys E non sto scherzando che per te sarà impossibile cliccare sul tasto piccolo rosso e scriviti utilizzando il naso E' letteralmente impossibile, ma se ce la fai ti sia da commentare con fatto, perché voglio vedere se sei veramente un grande Ok ragazzi, ci provo No raga, riscrivo pure ragazzi, andiamo a cancellare la riscrizione perché sennò non vale Oddio, raga, attiva pure la campanellina, aspetta Attivare la campanellina, è difficile, ah, mi ha rimasto Ragazzi, devo attivare pure la campanellina Attivala Ok Ma dai raga Ok Sì, ragazzi, ho attivato pure la campanellina, quindi cadi Dammi tutte queste cose perché l'ho fatto Grazie Sì, ragazzi